Studio Dentistico Fabiano, Studio Odontoiatrico Lo studio, al quale fa capo la dottoressa Fabiano specializzata in odontostomatologia, è uno studio professionale odontoiatrico Essendo situato a piano terra, è facilmente raggiungibile anche da portatori di Enfield Inoltre è convenzionato con azienda amica Si effettuano interventi specialistici del cavo orale, con trattamenti anche di ortodonzia, di protesi dentarie ed eventuali impianti Lo studio è aperto anche nel mese di agosto, previo appuntamento telefonico